Se vince il no con il 51% la FIAT non fa un investimento a Mirafiori. Riteniamo assolutamente positivo lo sviluppo che sta avendo la vicenda con la possibilità di un accordo tra le forze sindacali e l'azienda nella direzione di una maggiore flessibilità dei rapporti che è molto positiva per quanto riguarda la flessibilità del lavoro. Dobbiamo dire che ove questo non dovesse accadere chiaramente le imprese e gli imprenditori avrebbero buone motivazioni per spostarsi. Reassumendo tutto in una frase... Laboratori!